Gabriella Pession delusa da Mediaset dopo i vari cambiamenti che ha dovuto subire oltre la Soglia, la protagonista della fiction di Canale 5 ha rotto il silenzio La nota attrice Gabriella Pession, infatti, attraverso il suo account IG ha espresso tutto il Spiacere per l'ennesimo spostamento dello sceneggiato Infatti, dopo gli ascolti non proprio esaltanti Mediaset dal mercoledì sera lo ha spostato alla Domenica per poi trasferirlo definitivamente martedì in seconda serata con l'ultimo appuntamento La scelta dei vertici dell'azienda del Biscione non è stata mal digerita la Gabriella Pession che non ha Sto tempo ad esternare il suo disappunto attraverso un lungo post condiviso sui social network Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto Lo sfogo su IG per lo spostamento di oltre la soglia in seconda serata all'ultima puntata di oltre La soglia andrà in onda martedì 17 dicembre in seconda serata, alle 23.30 Auguro, visto l'ennesimo cambiamento e l'orario scomodo, che tutti i nostri affezionati fan possano Avere modo di seguire il finale di serie Ricordo che potrete vedere oltre la soglia anche su Mediaset Play, ha iniziato in questo Duro sfogo di Gabriella Pession sul suo account Instagram Di che la protagonista di oltre la soglia ha esternato tutto il suo disappunto per la scelta di Mediaset di spostare E in seconda serata, ci tengo ad esprimente il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda Oltre la soglia è un lavoro di alta qualità e l'unico fino ad oggi, in Italia, che ha Il coraggio di affrontare il tema delicato è ancora tabò della malattia mentale Parole di Gabriella Pession, ma lo sfogo social di Gabriella Pession contro Mediaset non è terminato qui Infatti la nota attrice, molto irritata, ha spiegato che oltre la soglia ha affrontato un tema mai visto in tv Un progetto nobile di cui fanno parte grandi professionisti del mestiere che è Sta avendo ottimi consensi, sia sui social che dalla critica Sono fiera di avere fatto parte di questa squadra Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l'unica strada percorribile Per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita Noi ci abbiamo provato e ne siamo orgogliosi, ha concluso la donna Alla notizia dello spostamento in tarda serata, i fan dello sceneggiato si sono ribellarsi sui vari social network Qui il post in questione Ti sposto on Instagram L'ultima puntata di Oltre la soglia andrà in onda martedì 17 dicembre in seconda serata, alle 23.30 Mi auguro, visto l'ennesimo cambiamento e l'orario scomodo, che tutti i nostri affezionati fan possano Avere modo di seguire il finale di serie Ricordo che potrete vedere Oltre la soglia anche su Mediaset Play Ci tengo ad esprimente il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda Oltre la soglia è un lavoro di alta qualità e l'unico fino ad oggi, in Italia Ho avuto il coraggio di affrontare il tema delicato e ancora tabò della malattia mentale Un progetto nobile, di cui fanno parte grandi professionisti del mestiere e che sta avendo ottimi consensi, sia sui social che dalla critica Sono fiera di avere fatto parte di questa squadra Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l'unica strada percorribile Per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita Abbiamo provato e ne siamo orgogliosi Grazie comunque atfiction__mediaset per avermi dato l'opportunità di interpretare Tosca, il ruolo del mio cuore E' la soglia E' oltre la soglia atv Sieri Mediaset Tfiction__mediaset Mediaset Play E' oltre la soglia atv Fiera post shared by Tosca Et Gabriela Pession Underline Official, Ondec 14, 2019 at 302 NPST E' oltre la soglia ativ E' oltre la soglia ativ